Variazione di bilancio approvati 16 articoli su 18 Il Piemonte punta sulle case di comunità Il Consiglio regionale si rivolge al Papa fermare la guerra Nuova edizione di Consiglio News bentrovati Proseguirà la prossima settimana l'esame del DDL per la variazione di bilancio 2022-2024 Critiche le opposizioni sull'approvazione di un emendamento che prevede il riutilizzo dei risparmi del Consiglio regionale per missioni e programmi Con l'approvazione di 16 articoli su 18 totali e proseguito nell'Aula Consigliare l'esame del disegno di legge per la variazione di bilancio 2022-2024 Sono 422 gli emendamenti depositati dall'opposizione concentrati soprattutto sugli ultimi articoli Come ha spiegato in Aula l'assessore Andrea Tronzano si tratta di una variazione di 44 milioni sui circa 19 miliardi totali del bilancio piemontese che soddisfa alcune esigenze che nel bilancio preventivo non avevano potuto trovare soluzioni a seguito di carenze di risorse Mettiamo soldi sulle borse di studio, vediamo soldi sui voucher scuola certamente mettiamo soldi anche sulla questione degli infermieri all'interno della sanità per prorogare i loro contratti Tra le manovre che il documento prevede ci sono 200 mila euro per le associazioni fondiarie 3,2 milioni di euro per coprire interamente le borse di studio 2 milioni per l'assegno di studio per trasporti e libri 1 milione per le scuole paritarie 7,3 per l'integrazione delle risorse necessarie a finanziare i nuovi contratti in sanità con la stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato per l'emergenza covid Tutti i contratti della sanità stabiliti naturalmente da norme statali in Piemonte sono stati stabilizzati con anche risorse importantissime regionali 1 milione poi va al fondo regionale disabilità e 3 milioni per un aiuto alle piccole e medie imprese rispetto al caro energia pur essendo una questione che può essere affrontata soltanto a livello nazionale ed europeo Molte critiche da parte delle opposizioni sono arrivate al finanziamento di 2,4 milioni a favore dell'organizzazione del rally di Alba Viene portato in Piemonte un evento che dà una grandissima visibilità e quindi farà conoscere il Piemonte in tutto il mondo insieme ad altri eventi che abbiamo portato e continueremo a portare È una variazione di bilancio che ha una dotazione di 44 milioni di euro quindi tante risorse e che non risolve nessuno dei problemi di oggi dei cittadini piemontesi Approvato a maggioranza l'emendamento 435 all'articolo 15 Septies a prima firma di Stefano all'Asia per il riutilizzo dei risparmi del Consiglio regionale La somma complessiva è pari a 9,9 milioni Il testo prevede di destinarne 3,2 in un capitolo fondi e 6,7 in una serie di missioni e programmi con la finalità di sostenere progetti di investimento e programmi di intervento in corso di attuazione Al momento della votazione dell'emendamento l'opposizione è uscita dall'Aula criticando la scelta di destinare i 6,7 milioni di risparmi del Consiglio senza un preventivo passaggio in commissione o in ufficio di presidenza e obiettando che sarebbe stato più opportuno utilizzare i fondi per combattere l'attuale drammatico caro bollette Tiene conto soltanto delle esigenze della giunta di centrodestra a volte a favorire determinate lobby e determinate categorie e non delle esigenze dei cittadini piemontesi che si trovano a far fronte al caro bollette agli aumenti dovuti all'inflazione e ovviamente a tutte le criticità che riguardano la vita di tutti i giorni Il dibattito si è esso fermato a lungo anche sull'emendamento 434 presentato dalla giunta per la progettazione dei nuovi ospedali In questo caso l'opposizione ha criticato l'opportunità di stanziare 30 milioni per i progetti di nuove strutture ospedaliere senza specificare quali L'assessore Tronzano ha dato disponibilità a portare lunedì prossimo in quarta commissione l'emendamento perché sia approfondito in tutti i suoi aspetti L'esame del DDL proseguirà la prossima settimana Il futuro delle case di comunità al centro dell'interrogazione che il consigliere Salizioni, Partito Democratico ha rivolto all'assessore alla Sanità Icardi Alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro della Salute in tema di assistenza sanitaria territoriale di prossimità la giunta regionale intende rimettere in discussione quanto previsto dalla PNRR per il Piemonte? Questo l'interrogativo che il consigliere PD Mauro Salizioni ha rivolto nell'ambito dei question time all'assessore Luigi Icardi A preoccupare il consigliere Salizioni le dichiarazioni del neoministro Schillaci che nei giorni scorsi si è espresso sulle case della comunità e lo sviluppo dell'assistenza territoriale dichiarando che occorre valutare se le case di comunità siano la risposta giusta per il territorio Non è stata comunque presa nessuna decisione definitiva Mettere in discussione tutto in un momento in cui sono già state definite le procedure per le gare d'appalto per la realizzazione di case di comunità e ospedali, ha dichiarato Icardi, sarebbe inopportuno e imprudente Attraverso i fondi del PNRR, secondo quanto riferito in aula dall'assessore Icardi il Piemonte metterà in piedi una rete di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative Sulla medicina territoriale sarà avviata la realizzazione di tutte le strutture di prossimità, molte già in cantiere Le rivolgiamo a questo appello in quanto uomini e donne di ogni appartenenza politica e religiosa con storie diverse e convinzioni anche divergenti su singoli temi ma uniti nell'angoscia per ciò che la guerra in corso rappresenta Queste le parole dell'appello al Papa firmato da tutte le forze politiche dell'Assemblea Ho raccolto una sollecitazione del Comitato regionale per i diritti umani affinché Papa Francesco con la sua voce autorevole si faccia tramite verso le diplomazie internazionali per una rapida soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e il raggiungimento della pace in Europa spiega il Presidente del Consiglio regionale e del Comitato Stefano all'Asia Dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2023 gli elaborati degli studenti e delle studentesse che intendono partecipare al bando di concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro indetto dal Consiglio regionale in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale Educare gli studenti a una gestione consapevole, responsabile del denaro e alla promozione della cultura della legalità Questa è la finalità del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro giunto all'undicesima edizione rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte Gli studenti e le studentesse dovranno realizzare un video o un elaborato scritto sotto forma di reportage o intervista che abbia come tematica i rischi legati all'uso improprio del denaro e le conseguenze del sovraindebitamento e dell'usura Per noi è importante rimettere la legalità al centro e soprattutto il contrasto ai fenomeni legati all'usura all'indebitamento, al sovraindebitamento e al rispetto della legge Gli elaborati vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia in presenza e in occasione del prossimo Salone del Libro e accompagnati dagli insegnanti e dalla classe di appartenenza parteciperanno entro la fine dell'anno scolastico ad un viaggio studio presso le istituzioni nazionali impegnate sui temi della legalità Non c'è libertà, non c'è pace se non c'è legalità e questo è quello che noi vogliamo diffondere ai nostri giovani e vogliamo insegnare ai nostri giovani Ancora giovani, protagonisti di un altro concorso indetto dal Consiglio regionale Le note del cuore, i cui vincitori hanno partecipato a una giornata di formazione assistendo alle prove dei Little Piece of Marmalade protagonisti della finale di X Factor 2020 Dare spazio ai talenti offrendo un percorso di formazione a cura di professionisti della musica è uno degli obiettivi del concorso Le note del cuore organizzato dal Consiglio regionale e gemellato con la nazionale italiana cantanti e la partita del cuore Proprio alla formazione è stato dedicato il pomeriggio che i vincitori dell'edizione 2022 hanno trascorso all'Hiroshima Monamour di Torino in occasione delle prove generali del concerto dei Little Pieces of Marmalade Dopo essersi esibiti lo scorso settembre con i loro inediti Il Sogno del Cuore e Tutto Cambierà davanti al pubblico dei You Power Stadium di Monza alla partita del cuore 2022 i giovani musicisti vincitori sono stati accompagnati da Giulio Graglia, autore e regista televisivo e da Daniele Ciuffreda e Francesco Antinori, componenti dei Little Piece of Marmalade in un percorso di approfondimento sulle tematiche e le modalità più rilevanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo È un grande lavoro quello che viene fatto dietro a un'ottima realizzazione di un concerto e sicuramente questa è un'occasione per capire sul campo come vanno applicate cose che si studiano Durante l'incontro i ragazzi hanno potuto confrontarsi con tecnici e professionisti del mestiere sulle sfide legate al proprio percorso artistico rivolgendo domande su come avvenga la messa in scena di un concerto live elementi scenici, effetti speciali, tecnica audio e video osservando in diretta tutto quello che avviene nel corso di un soundcheck prima di un evento dal vivo Montaggio tecnico, audio, luci, video Sugli strumenti magari sul computer o cose più tecnologiche diciamo Io faccio hip hop barra latino, diciamo un sottogenere del latino che si chiama Dembow Tra poco inizieremo di nuovo a metterci sotto a trovare qualche idea Per quest'edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti